vediamo un po' ah, non partirà la pubblicità come al solito oh, sto Pokerstar con questa pubblicità ha rotto le palle te ne fa frega vediamo se stasera mi fa scherzi e ha pulito la cache non dovrebbe fare scherzi eh, perché è l'unica ipotesi apparentemente sembra più fluida quando pulisci la cache certo, se facessero una voce sul menu sarebbe meglio piuttosto che dove staccare la spina invitato pure Manu che o non si è accorto dell'invito o non lo so ah no lo so Allora da me c'è solo un rosso Mo sai che faccio E me ne vado subito a vendere E oh perfetto sto pure in città Me ne vado subito a vendere E me rifornisco le munizioni Anzi no prima Compre le munizioni Ci sto No certo per pulire solo quattro armi Spendi sei dollari Porca zuzza però Posso più tempo a pulire che Munizioni stiamo a posto Vado a vendere la carne Giusto quello che c'ho addosso Perché Che posso fare per te Diciotto pezzi di salvagina Dieci dollari Vado a vendere la carne Ma sempre si muovono Io prenderlo Vado a vendere la carne Vado a vendere la carne Ma sempre si muovono Vado a vendere la carne 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 691 dollari perché Manu non accetta gli inviti? e ancora usa whatsapp per comunicare vuoi entrare tu nella mia? entro io nella tua? Manu ah è bello che è entrato pure nella sessione però la chat gli fa schifo ah mi sa stare tutte e due nella mia perché i due puntini blu siete voi forse Manu ce la fai? sei connesso oh il tuo microfono però fa un fastidioso rumore è tipo un grrrrrrrrrrrrrr ancora 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 peggio così peggio uguale a prima ah senti bene c'è un rumore di sottofondo che dà fastidio c'è no no quella uso c'è come ti posso spiegare il rumore di sottofondo c'è attaccato è ancora va bene se lo faccio pure io quando non parlo con marco però non lo fa vabbè ma ma marco ah che fai taggherai a questa boh ah e dove stai tu ah tu stai oddio dove stai fai la posse sei sicuro che ci stai eh no no quella è un'altra cosa no 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 in caso ho invitato marco eh fai a sinistra col pad giocatori rb c'è c'è la lista amici e la vai su marco premi a no premi a e ci stai in vita e mo perchè forse è già entrato perchè è già entrato forse forse o perchè gliel'ho mandato io questo che vuole eh no però io sento sto rumoraccio che spero che mano risolva è però se sente rumore è quasi uguale è una vibrazione continua fa una cosa se non devi parlare prova mette muto ecco fa così quando devi parlare parla se no c'è c'è un silenzio tombale quando ti senti eh sì nel senso che non so come fartelo capire però fa fa un rumore fastidioso e poi dobbiamo decidere se fa che facciamo facciamo qualche sconosciuto cacciamo pescamo ah ce l'hai o non ce l'hai mi sa tipo sui 100 120 dollari forse che costa più la canna che il fucile mi pare no costa cioè no ah aspetta l'arco costava sui 200 la canna forse no forse la canna è quella che costa di meno però forse non ce la fai le soldi che c'hai però fa un salto arcoso così arcoso arcoso l'empori vedi quanto costa te lo segni tanto ho detto ricordate mi pare ero a comprare detto al catalogo però tanto se peschi non fai esperienza fai solo soldi su no 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 di andare su accessori caccia e pesca tipo no no all'emporio tu sei andato mi sa che l'armaiolo un po ah e no mi sa che là ci sta se stai sfogliare quello portatile mi sa che là non ci sta ah aspetta si c'era che là questo vabbè è rango 14 ah ok quanto costa? non te lo dici mi sa ah ok e devi salire del rango ah io spero solo che ah no io non voglio non voglio la taglia non ci tengo vediamo ci sta questo qua a bc speriamo che non crasha più perchè da veramente nervi quando crash ah si intanto vedi come ho detto fa parte in marco chi? dove? come? no 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 è normale e ce lo dici a noi due perchè il capo posto è lui ah che ansia dici? forse l'unico animale che può trovarlo non servono gli indizi che di solito sta nell'acqua eh si ovvero a volte sta pure spiaggiato io lì la cosa un'acqua io lì la cosa un'acqua di lì la cosa l'avevo l'ho visto? mmm io l'ho io l'ho non mi è perso mi avesse superato un tacchino invece lì vabbè eh si però un po' possiamo provare a tornare indietro ok non so dove stanno i rossi speriamo che non ci rompa le palle nessuno eh i rossi stanno da là eh che c***o ma vaffa eh già cominciamo ma che c***o da dove è uscito poi io manco l'ho visto ma guarda che c***o c***o questo eh guarda è messo eh attaccata il c***o eh vabbè ci conviene forse già cambiare sessione posso ah vedi giocatori uccisi con bolt action quindi possiamo pure fare la sfida no vabbè ma come c***o fa scusa no vabbè sto gioco veramente non è possibile poi che c***o di livello è 24 e 25 come c***o fa ammazzarmi no ma ammazzare con colpo solo ma come c***o fa eh ho capito ma io glielo ho sparato i 50 attaccata al c***o tu ah c'è sta pure la sfida da fare uccide 5 persone però con colpa alla testa bisogna falle quella la palla ah no no uccisi ok bisogna solo ammazzarli non bisogna per forza sparare in testa ma perché passano vanno a piedi tutti i geni eh grazie al c***o state in due contro uno testa di c***o ah è partita pure la missione c***o quindi mi tocca venire là eh osano ma questi mi stanno a romper c***o però eh ma perché non mi fa fa la tregua forse la posso fare solo quando non gli sparo giustamente poi mi fa ridare la gente che rompe il c***o quando uno dice che ci uscire vorrebbe la modalità passiva solo che poi non puoi fare missioni eh ma però mi dovete mettere mi dovete mettere dove state se no io non so dove state eh vabbè e magari sì giusto che arriva ma non dove passa ecco soprattutto in mezzo ai fratti e magari mi incollo un albero è buono sapesse che c'è da fare la sfida così più tardi vado a sparare qualcuno rosso no in conto mi vado a cercare in conto devono rompere il c***o mentre uno sta a fare emissioni quelle normali che c***o 3 stelle alligatore sto arrivando intanto l'ho ammazzata al volo vedi pure 5 i coccodrilli in soda sottovalutati che carne di salvagina so soldi siamo stati attenti perché quelli rossi ci vengono pure a romperchiazza io sto vicino a Marco è lo Sherlock della situazione fammi vedere dove stanno i rossi i rossi non stanno tanto lontani però no stanno là stanno abbastanza lontani cioè nel senso che stanno stanno attrottati sempre nello stesso punto io sento nell'acqua pure uno lo so No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no questi cagano il cazzo tutto il tempo in teoria non hanno accettato vabbè no ci conviene uscire io ne sopporto io ne sopporto non potevamo passare tempo a sparaie no vabbè ma questo mancome mira cambiamo sessione questo mancome mira mi spara come cazzo fanno questo rango uguale al mio papà il cavallo mio che cazzo sta fanno mi rossi so de un cagamento di cazzo o non tutti questi sono due deficienti e devono rompere il cazzo mi rossi sopporto perchè sta da rimanere là? Non, 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 non! ma questi se rompono il cazzo un po' manca a cacciare tanta pace perché ce n'è uno trasparente ho fatto pure la sfida sparato 6 con testa rango 24 io ci avrei interesse una pelle di boccotillo non è che vale tanto si si io ho ammazzato un coccotillo che potrei andare giusto a vendare la pelle potevo pure cambiare la sessione adesso io ho tanto una pelle di boccotillo non è che mi fa differenza certo se ci fosse eh cambia che io al volo al volo mi vado a vendere se trovo un macellaio se c'è un macellaio vicino c'è un macellaio vicino non c'è manco un macellaio vicino c'è dovrei arrivare fino madonna che palle vabbè che cazzo ne so una pelle di coccotillo vedi che aria tira che c'è un macellaio vicino che cazzo ne so che cazzo ne so che cazzo ne so io sto solo a ammazzare qualche uccellaccio tante volte riesco pure a riva al macellaio appena ti comprerai sto fucile leggero tutte le piume farai un sacco di sorte però ti devi comprare pure l'arco che cazzo ne so che cazzo che cazzo che cazzo Sì, sì, sì. Tocca a chi è lontano, su, vado, so quasi, no no, so quasi arrivato, secondo, a meno, non so se l'hanno fatto in campagna, ma non credo, potrebbe pure essere che l'hanno fatto in campagna, ma non credo. Sì, io sto entrando quella di Marco, inviti, vai. Ci facciamo un altro, oddio, qua, se sono più rossi di là. E' un'altra sessione, teoria, però qua mi sembra peggio dall'altra, è pieno dei rossi. Vabbè, sì, sì. Marco, fai, rifai la fossa. Ma quanto costa la fossa, la fossa permanente? Doppietto. Tre, fonda forse. Cioè, 200 o 2.000? Ah, non costa manco tanto. E' un po' estaba seguito. Eh. andiamo avanti i russi aspetta che levo la meta se no mi continua andiamo da là non capis fa qualche altro sconosciuto ce l'abbiamo uno qua uno qua vicino amish vedranno di guerra soccorso e recupero si potremmo provare sperando che non dobbiamo andare a forte wallace come si saluta a te devi avvicinare però esatto come si fa a dico facciamo sconosciuto qua vicino metti metti due a cosa destinazione su amish ah però dobbiamo passare dobbiamo passare intorno al fort wallace oppure tagliamo per no non è solo quella blu de marco possiamo cioè tu poi segui pure la tua però la vedi rossa proviamo dobbiamo stare davanti al forte ci stanno tre rossi là dentro comunque ho fatto la cacchiata de mangiamme un coso un bignele san giuseppe fritto io odio proprio la roba fritta c'è bombe ciambelle lasciano il sapore si però molto non c'è casco più c'era pure quella al forno però però no 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 a me no pulisci la cache no 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 Ahahha 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 Svegli che non ho mai qualcosa Questo è stato molto Ahah Beh? Sì? In vero? Ma che palla? Il meno peggio dove sta? Eeeh stanno in basso... Ma che c'è un rosso che sta vicino? Abbastanza vicino Vabbè no ancora O c'è quello sperduto qua Flaco Hernandez Uccidere qualcuno o sgraffignare qualcosa Oppure qui sotto ce ne sono due Ah Valentine Sicuramente da Hernandez qua Non ci viene a rompere le scatole nessuno Dai... Da Hernandez quella che viene in alto? Eh si quello non ci sta... Io non è manco lontano Bisogna vedere che giro ci fa fa Metti un po' la meta Giusto per vedere che Eh te pareva Perché su tutte le montagne Tocca a fare tutto il giro Se no Valentine Che non ci sta comunque nessun rosso C'è The Boy Quello? Ah anche Un po' più lontano The Valentine però Dici tanto per cambiare? Eh lo so Missione di consegna Scorta Oppure caccia No come detto Oppure per un nuovo cavallo eh Mh E' l'unico che c'è il cavallo più nuovo lo so io E tu c'hai lo stesso... Lo stesso cavallo di Mark come sai Quindi... Ops No se ha visto... No se ha visto... Madre... Se l'ha visto al volvo se era un serpente Magari per fare riposare i cavalli possiamo pure ogni tanto... Ma sbaglio c'ho... Sembra che c'ho dei peli... Mh... Che? E' l'ho applicato tutto il cavallo Ma dico per fare riposare i cavalli magari intanto ho sparato a qualche uccello Infatti io la polizia cash non l'avevo mai fatta... Se non una volta che... Ehm... Dopo che era andata via la corrente... Tipo la console non mi aveva a cavo di rete... C'ho dovuto scollegarla... Ehm... Beh... Sì forse è passata pure un anno magari... Però c'è scritto con questo... Ah... C'è scritto... Quello lì che ho visto il video... Come si fa la polizia... Dicela tipo ogni tre mesi andrebbe fatta... Che a fine c'è sempre... Una versione di Windows 10... Uh... Ehi... Eh... Che palle... Ma non è morto il cervo che lo ha sparato... Ehi... Quello lì che palle... Ma non è morto il cervo che lo ha sparato... ora ormai mi si sarà pure rovinato il cerchio apre una stella abbiamo solo l'ape arrivo il flash fa sempre la cacca ho sparato una frecciata un cervo tre stelle non è morto vabbè dove mi rambeio ricorda ti devi comprare l'arco il fucile si chiama parmint e la canna gettonatissimo il colvampere prima ho preso un uccello bianco una piuma a due dollari aspetta la carne non si batte a a la mucca è sacra la quaglia no carina la quaglia tutta antera la quaglia